Buona giornata da Nico Schiodetto. Sabato alta pressione disturbata nuovamente dall'ingresso di correnti un po' più umide oceaniche, soprattutto al nord con qualche fenomeno a ridosso delle zone montuose, ma non solo, anche a tratti in pianura. Andiamo però al dettaglio perché la situazione vedrà un po' di variabilità in mattinata al centro-sud, soprattutto sulle centrali tirreniche, poi durante il pomeriggio e la serata la formazione di qualche occasionale fenomeno al nord, specie alte pianure e settori montuosi. In sintesi, zoom e precipitazioni perché ci conferma un cedimento dell'anticiclone in quota al settentrione con fenomeni più probabili proprio a ridosso delle zone montuose. Nel dettaglio quindi questa variabilità in mattinata prevista al centro-sud e con isolati piovaschi, qualche goccia di pioggia sulle centrali tirreniche, poi migliora. E poi abbiamo segnalato qualche fenomeno al nord, brevi piovaschi o temporali di passaggio, un contesto di variabilità, specie a ridosso della catena alpina e sull'appenino settentrionale. Dettagli maggiori, ulteriori approfondimenti li trovate scaricando l'app di Trabi Meteo.